Musica Noi siamo produttori, allevatori da sempre di carne bovina. E' importante fare la spesa al mercato contadino perché si trova tutta roba genuina della nostra campagna. Abbiamo l'allevamento, il macello, la macelleria, il laboratorio, la macelleria dove facciamo tutte le lavorazioni e facciamo gli otto mercati alla settimana. Ci facciamo tutto noi, dalla macellazione, dalla lavorazione delle carni alla vendita finale, che è la cosa più bella. E' importante venire al mercato contadino perché trovi i produttori che producono quel prodotto che tu vuoi acquistare. Quindi ti possono raccontare come l'hanno fatto, come l'hanno vissuto, che qualità ha. E poi vedi anche in faccia chi lo fa e quindi capisci subito il rapporto che ha e se effettivamente è una cosa di qualità o meno. Beh, la genuità è importantissima perché alla fine ti permette non solo di mangiare una cosa buona, ma soprattutto di assimilare principi nutritivi, vitamine, tutto quello che ti serve per una vita regolare. Perché è inutile andare a mangiare un prodotto che magari costa poco e che non è genuino e poi andarsi a comprare le scatole di integratori. Grazie a tutti.